L'Arci di Arezzo ha realizzato un interessante progetto, è andata in Iraq con dei giovani, un progetto di conoscenza. Quali erano gli scopi di questo progetto? Si lascia un progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo, quindi un progetto di aiuto, semplificando nei confronti di paesi in difficoltà, paesi che escono da una guerra e che sono in guerra purtroppo tuttora. L'Iraq è fatto da un ponte perra, siamo all'Arci, un progetto che va a intervenire nelle fasce più deboli della popolazione, i profughi siriani che si trovano in Iraq, i profughi iracheni che si sono spostati all'interno di quel paese e i giovani che non solo sono deboli in quanto spesso con case distrutte senza più genitori, ma hanno anche il dovere, il compito in qualche modo e si sentono questo dovere e compito di ricostruire quel paese quando, spero presto, sarà realmente riappacificato e democratico. Alla fine di questo percorso che è durato una settimana eravamo molto affiadati tutti quanti, quindi credo che sia stato, a prescindere da tutto l'ambito formativo, quello che siamo andati a provare a insegnare e quello che loro dovevano insegnare a noi perché è stato un percorso di scambio, credo che sia riuscito anche perché proprio alla fine abbiamo anche creato una sorta di network di lavoro fra italiani e iracheni che sarà molto utile in futuro. Abbiamo insegnato questi ragazzi a usare una landing page, a usare i social network in maniera un po' più professionale, gli abbiamo insegnato a creare una web radio, gli abbiamo insegnato diverse cose e loro ci hanno insegnato altre cose.